un attimo la pelle se sono qua bella frutta ecco l'ho finato adesso ma questo non è dove stavo non è dove stavo è di qua stavo in banco in bravo bravo si era con questo guarda l'elefantino piccolo che non ce l'ha fatto poi gli dà la mano guarda guarda quella patrone è dove è di occhio guarda guarda ecco quella patrone che volevo quello lì che cosa è quella è la nonna no è quella che era con due donne ecco quella lì e quella là davanti aspetta che adesso vedi questo non ce la fa vedete guarda guarda come si sali ecco ecco beve acqua adesso che spettacolo guarda vuoi vedere che venga una bella l'acqua no se ne vanno un po' più beh e guarda come si scurti l'acqua prossima la butti in bocca Grazie.